Allora ragazzi, non facciamo un vlog da tipo tanto tempo, tipo mesi, ottobre, novembre, prima E siccome era in astinenza da vlog, eccoci qui quest'oggi insieme a Giuseppe Oggi sono il calame ramelle e il fantastico è Sono l'uomo! Ok, bene, che cosa faremo quest'oggi Giuseppe? Faremo i dorayaki e i mitra shidango Sono cibi... Giapponesi Ok, perfetto Cinesi, no Tra l'altro, lasciamo stare Cosa? Tutto Ah, la scala... Vabbè Il vetril Quest'oggi abbiamo gentilmente napoletanizzato la cucina a mia madre e mia sorella Anche se mia sorella è un po' cazzo Vabbè, sto tendendo il telefono Eh, sì, è il telefono di mia sorella Perché dobbiamo cucinare, ragazzi Dobbiamo cucinare le cose quelle buone, quelle fatte bene Quindi non perdiamo tempo Let's go! Ok, siamo pronti per fare un qualcosa per la quale un giapponese nel mondo raggiungerà Kamisawa Siamo pronti Scusa Vai Allora facciamolo Il dorayaki gigante Un giapponese nel mondo sta tipo resuscitando, ragazzi Questo è il momento della verità, Giuseppe Che vita di merda Possiamo ancora recuperare Dove cazzo è? La cazzuola La cazzuola Vieni qua, strozzo Quasi Dai, prendilo Giralo Oh, sta venendo benissimo Facciamo stare poi Sì, vabbè La ferita di guerra, quella ci sta sempre, ok? Porca la fu Ci può scendere Beh Ale La qualità poi è cambiata perché si è spento il telefono di Giuseppe Professionalità E batteria Preparati, Giuseppe I'm going to spatolio Vieni qua, stronza Il prossimo che andrò a ribaltare sarebbe Al contrario, sono andato a girare Ah, perfetto Ora va meglio Il dorayaki gigante, però Un giapponese nel mondo è tipo E il doraymon è tipo Ah, ah Certo, questo è un po' di Cernobille, però Cioè, se ci fai caso Un giapponese? Dorayaki Un americano? È un pancake Però no Perché ci vuole un mirino Aspetta, inquadra il mirino Inquadralo! E questo non è product placement Soprattutto la Nutella La Nutella ha le snitche Oh yes, sono anche io nel video Pezzi di me Diventerò tipo Benedetta Rossi Me lo sento Se ho ridotto a fare video di qualità A filmare un dorayaki Cosa fai nella vita? Ma filmo dorayaki E mi paga? Esatto Tieni, ecco i tuoi 20 centesimi sudati Grazie Diventerai anche tu marrone come quella parte Ce la puoi fare Ti stai mettendo sotto pressione, tranquillo Secondo me già va bene Secondo me si è motivato abbastanza Chia che salto Non è vero manco per il Grazie a me di tutto Si aspetta Omae va Mou shindeiru NANI Si è acceso? Da solo? Però piccola domanda Perché questo sembra un limone A titolo in forma di limone Io erai limone Piccola domanda Giuseppe Ma se poi riusciamo a fare un dorayaki A forma di cazzo Qualcuno se lo manca O no? Nel dubbio lanciamo un sempre solido Sono edero Giuseppe Sì Sono tornato Eh sì Ecco Sarà anche acceso Da solo Vai Vaffanculo Ma calmi cron Sta spe... No Sta spegnendo È morto Dobbiamo essere i più bascolini possibili Quindi mentre si cucina ragazzi Si flexa il bicipite O meno quel che si ha Fra mi stai prendendo per il culo Come fa ad essere a 48% Ho messo ad essere a 25 minuti fa Come? Che problemi ha il tuo telefono Di preciso È arrivato il momento della missione Più importante e difficile di tutte Fare un cazzo di dorayaki In tutti i sensi Oh madonna È un po' troppo piccolo Ma per me è che si allarga Che brutta frase Un'idea per renderlo più bello Questa è la missione culinaria più difficile Che abbiamo fatto Ciao Rocco Ma che brutta scena Ma... Che stavo sul sito arancione Stai schiacciando il cazzo Inquadrature artistiche Che cazzo di dorayaki Però è venuto bene sai Basta scendi il cazzo E via la padella Quando è più bello È fatto Bambino cattivo E mi fai che ti frusto Vedi che io ho una spatola Non ho paura di usarla Fare più una cazzuola Che una spatola però Una spa... Una spazzuola Una cazzuola Una cazzo... Una cazzo... Una domanda Secondo te Come rimarranno Quando vedranno questo Per ad arte Ammaliati Bene Giuse Che cosa stiamo facendo adesso? Cosa faremo ora? Creeremo le palle How God made the balls Oggi a come fatto Vedremo come sono fatte le palle Fare il calcio e il struzzo Possiamo farci basi d'argilla? Esatto Stia raccorta La dedizione La forza Il movimento La tecnica Giovanni Cairi Direi che è pronto Sembra tipo Plastilina Sei pronto Giuseppe? Vai Pugno del... Bene adesso Noi dovremmo fare Le palle Sei pronto? Sono bravo con le palle no? Dovemmo venire 32 palle Da questa cosa Ti avrei conto? Guarda quanto stai tenendo lungo Baba boy Allora questo deve essere 32 Quindi questo è 16 Questo è 8 Questo è 4 Questo è 2 Insomma Max Allora io lo taglio Poi ti riprendo E tu fai le palle Ok vada Vada Wong Aghiaa Mica Guarda che se mi fai qualcosa Ti denuncio Anzi prima ti ammazza E poi ti denuncio Tranquillo Fare la stessa fine Che fa per fare questo Che male Pneumatico Automatico Ok Giuseppe Adesso ci invertiremo di ruolo Lei fa le palle I made the balls I'm the ball master DJ cazzo Devo registrare Tocca a lei Toccava la letta Lei al momento è lo chef qui dentro Ce la può fare Credo in lei Allora inizio a prepararmi un poco di mannogarta Perché qua finisce male Questa l'ho pella schiacciata Porca bocca Cosa stiamo facendo nella nostra vita Le palle più grosse e le palle più piccole Perché è venuto tipo un UFO Un'altra volta È un Beyblade Oh mia bella Madonina Chi mi fa fare queste cose la mattina Oh mia è grossissima cosa Coglione io che la faccio sul tavolo No Matematica con Giuseppe e Sergio Quante sono queste? 3, 6, 9, 12 47 16, 17, 18 giornalmente Ma fare così Aspetta 3, 6, 9, 10, 32 Perfetto La mia matematica è migliore E ora che ci fa? Facciamo bollire l'acqua amico Portiamo a 7 gradi così bolle Perché l'acqua bolle a 7 gradi Roberto A proposito Entrate nel server Discord dei fulmini Mi raccomando ragazzi Abbiamo tipo 8 boost Quindi ragazzi potenziatelo ancora di più Arriviamo a 14 così C'è il boniturl Ci sono cose belle Entrate Ci siamo anche noi Direi Giuseppe Ti posso presentare un amico Si chiama Elpepe Mi è questa toglia Mi è questa toglia Mi è questa toglia Non bello che ho primitia Però dai che è caldo Tipo 20 minuti che sta qua Perché non bolle? Metto fuoco alto Vai Stai insendo a bollare Sta bollendo Sta ballando Si che ha due anni e mezzo Guarda Stastro Dobbiamo mettere le palline Una o una là dentro Vada aiuta Vai bravo 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 Vada vada Aia me sono bruciate Appena c'è altro Di superficie Signia che sono negati Ho qualcosa che ho fatto Se io non ho paura di usare Con una forbice Comandiamo Guarda che belli però Tipo raviolicine Vieni vieni guardi guardi Fa di sbocco Questo Qui Questo Qui Questo Così E la Miele Salsa di soia Mirin Zucchero Acqua Vabbè Ho dominato un po' Il mio telefono è morto di nuovo Ok giusto Ho rubato il telefono A mia sorella Perché questo è pieno La memoria piena E quello è scarico Una strage oggi La fuori Mazzicca Giulia mi serve per il video Vaffanculo Il tuo telefono Ora è il nostro telefono Senza questa come Di cosa sanno Di niente È solo farina con acqua Fra Di cosa vuoi che sappiano Farina con acqua Cotta Olè Ale guarda qua Finito Perfetto ragazzi Sul piatto delle wings Citorayaki E sul piatto normale Mitterashidango Dopo li mangiamo ragazzi Poi ce li gusteremo E vi faremo sapere Com'erano Forse Sanno di colla Milica Ve lo scriveremo In editing In post edit Ma quindi per questo video Se vi è piaciuto Vi invito a lasciare un bel like Iscrivervi al canale qui Giù nella descrizione Ci sono tutti i miei social A seguire anche il più presente Giuseppolo Nazionalo Che ci ha aiutato Durante le riprese Durante la cucina Durante tutto Anche la sua presenza qui È stata Supporto morale Io sono l'onorevole E quindi entro ragazzi Da Raidix E noi ci rivediamo Al prossimo video Blackout Al prossimo video